Ciao ragazzi, passavo qua per il bar per dare una controllata ai frighi, state in casa, che è periodo di stare in casa, sperando che passi tutto. Mi è venuta una gran voglia di farmi un drink, sono 10 giorni che sono barricato, si vede dalla faccia, però oggi facciamo un bel colte in botte e qua il cavo di Senigallia va tantissimo. E' un semplice Negroni messo in botte precedentemente aromatizzata, praticamente prendo una botte dalla qualità e ci vado a mettere dello sherry, della ciliesa, del mescal, del vermice importato e tante altre cose. Adesso me lo devo. Vado a mettere il colte in botte dentro, che già avevo preparato, lo lavoro, Praticamente siamo in Negroni molto più morbido, con dei profumi di silesia, delle affunicature, profumi di spezie, da noi va tantissimo. Versiamo il tutto. E ragazzi, cheers, usciamone più forti, state in casa e speriamo che si riparta alla grande, alla vostra. Grazie.